Non ha rapito Ugo, stavo parlando con mia mamma e era andato là in fondo, e ho trovato la porta del parco aperta Qualcuno è entrato e ha rapito Ugo, non c'è da nessuna parte, neanche là in fondo Ugo, devo correre, devo andare a cercarlo Ugo, 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 oh mio Dio, oh mio Dio Devo correre, devo correre, devo andare a chiamare la polizia Ugo, caspita, il mio cucciolone Ugo dove sei? Non deve essere andato molto lontano, sempre se non l'hanno rapito l'hanno messo in un furgone Ragazzi sono a casa Ho chiamato la polizia ma hanno detto che non possono fare nulla Perché ultimamente ci sono troppi furti di cani nella mia zona E l'unica cosa che posso fare è cercarlo da solo Cercherò comunque di tenervi aggiornati